Prendendo la sagoma per ritagliare da una lastra di gomma per fare l'antiscivolo a queste scarpe nuove che la signora preventivamente si vuole salvaguardare così la posso ritagliare a misura più vicina possibile a quello che poi andrò a fare cercare di avere meno... Sono delle scarpe particolari, di cosa si tratta? Queste sono scarpe di pelle trattate e la signora non so esattamente perché non ha voluto il tacco adesso non mi ricordo ah sì perché ha preferito mantenerlo di questa dimensione è un mocassino molto particolare sicuramente sarà per qualche occasione perché se non mi ricordo male mi ha detto che aveva imminente una cerimonia e quindi ce l'avrà abbinato con dei colori particolari al proprio vestito ecco qui prende la misura perfetta sì ci avviciniamo il più possibile a quello che sarà il lavoro poi ultimato poi ognuno ha il suo metodo non c'è una regola precisa per fare questo lavoro ognuno adotterà il metodo che ritiene più opportuno e più vicino alle problemi forte delle proprie esperienze sì infatti infatti come in tutti i lavori come quando guidi la macchina l'istruttore ti insegna come fare poi ognuno di noi la nostra postura e il nostro modo di guidare stessa cosa vale per questo ad esempio a me piace dopo che li finisco andare a fare una piccola scalalatura dove verrà staccata ma non tutti lo fanno ora non c'è chi è giusto e chi è sbagliato ognuno è giusto che segua la propria esperienza come vedete quando la metterò non si vedrà proprio niente andrà proprio a filo con la preparazione del fondo che mi ero qua adesso andiamo a passare la colla in questo caso sarò una policlorofrenica che sul cuoio e su questa gomma va benissimo come vedi ho anche altri tipi di colla all'occorrenza in base al materiale che deve andare a fare ad incollare deve avere la colla ad alta eventualmente se c'è bisogno di un primer o di un alogenante lo userò questo è il lavoro un po' più classico perché andiamo a incollare il cuoio e anche paradossalmente quello più facile da incollare la cosa più naturale devono stare un pochettino ad asciugare la passione per quello che si fa è il primo ingrediente per un successo poi nel prodotto sì, questo secondo me è una regola di vita in qualsiasi mestiere, in qualsiasi cosa fai se non ci metti passione non arriverai mai ad un risultato soddisfacente e neanche per te stesso non avrai la soddisfazione in quello che fai al di là poi dei soldi di tutto quello che può con... come dire, andare per un lavoro fondamentale è la passione come uno sport per fare sacrifici deve averci la passione se no dici ciao, non faccio niente come vedi questa qua ho usato questa colla e quando ho incollato questo qua ho un altro tipo di colla completamente un altro tipo di lavoro molto tecnico che una volta era impensabile fare oltre ad avere la pressa deve avere le colle giuste l'esperienza giusta e... e tanta buona volontà perché sono anche abbastanza ingombranti come scarpe fare un mocassino è una cosa fare degli stivaloni da motocross e tutt'altra cosa quanto minuti devono stare qui adesso le scarpe prima di incollare? un quarto d'ora abbondante quando... per asciugare dopo un quarto d'ora quando la colla sarà asciutta completamente valuterò intanto se ripassare un'altra mano a questa qua perché il cuoio tende ad assorbire molto la colla quindi magari riempie il poro però non riesce a stare in superficie quindi una volta asciutta valuterò se ripassare un'altra mano solo sul cuoio sulla gomma non abbiamo di bisogno e noi torneremo ad incontrare il signor Salvatore Schepis ringraziamo tutti voi per essere rimasti in nostra compagnia in questo importante video dedicato al settore dell'antico mestiere del calzolaio a tutti ciao 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 ciao